Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, notiziona di ieri-oggi, non so quando starete guardando, per la rubrica Apex su piattaforme altamente improbabili, dopo aver provato Apex su Switch, oggi parliamo di Apex Legends Mobile, che attenzione, non è Apex Legends su mobile, è Apex Legends Mobile, grossa differenza, adesso ne parliamo. Iniziamo con un veloce background, iniziamo col dire che la versione mobile di Apex è chiacchierata, cioè si parla di questa possibile e ora effettiva versione di Apex da addirittura due anni, pensate dall'uscita del gioco principale. Se cercate sul web si trovano articoli come questo, risalenti addirittura a febbraio 2019. E questo giusto per dire che non è proprio stato rilasciato completamente dal nulla. Infatti qua ci sono proprio le parole ufficiali di Andrew Wilson, CEO di EA, che aveva confermato già nel lontano febbraio 2019, l'arrivo, prima o poi, si pensava più prima, invece siamo arrivati addirittura al 2021, di Apex su mobile, che però non è Apex su mobile, è Apex Mobile. Io ho insistito su questa cosa dicendovela già due volte nel giro di un minuto, per un motivo che adesso capirete molto bene. Bene, intanto siamo sul sito ufficiale di EA, nell'articolo ufficiale, lo trovate se volete in descrizione. Io inizierei a leggere. Ciao a tutti, sono Chad Grenier, cioè io sono Nico, lui è Chad Grenier, game director di Apex Legends. Oggi sono qui per parlarvi di un nuovo gioco, Apex Legends Mobile, per parlarvi di un nuovo gioco. E questa è una differenza abissale, perché non si tratta di un porting, che poi è anche abbastanza scontato, perché come fai a fare il porting di un gioco per console PC su mobile? Però comunque non si tratta di un porting come quello che è stato fatto, tra l'altro, secondo me, neanche così bene su Nintendo Switch. È un gioco sviluppato completamente da zero, prendendo ovviamente come modello Apex Legends. E se non hai ancora lasciato mi piace al video, questo mi sembra un ottimo momento per farlo. E tra l'altro, iscriviti anche, perché sta per uscire la Season 9, qua ci sono sempre novità esclusiva. Io non me ne priverei. E quindi partirei col dire che, secondo me, le aspettative per questa versione di Apex, rispetto a quelle che si potevano avere per Switch, dovrebbero essere addirittura più alte. Perché quello per Switch è lo stesso gioco, tra l'altro con anche Crossplay abilitato con le altre piattaforme e tutto il resto. Questo è un gioco a parte, sviluppato da zero e quindi non avrebbe senso che esca male. Cioè, avrebbe senso, ci si augura di no. E questo è un chiarimento che volevo fare, giusto perché ho visto tanti commenti negativi verso questa notizia, del tipo, ma se già su Switch gira male, quanto male potrà girare su cellulare? E no, non c'entra perché non è quello il gioco. O meglio, lo è, ma non lo è. Ma torniamo al nostro bellissimo articolo e vi spoilerò già attenzione che nella seconda sezione, nella seconda parte del video, andremo a curiosare nella scheda ufficiale di Apex Legends Mobile nel Play Store dove ci sono delle novità quantomeno interessanti. A partire dalla fine di questo mese daremo il via alle prime fasi di beta testing regionali. Ok, questo è un momento molto importante per il nostro team. Due anni fa abbiamo stravolto il panorama del genere Battle Royale con Apex Legends e ora puntiamo a farlo di nuovo su mobile. Perché la modestia è una qualità importante. Ovviamente scherzo, è sicurezza di sé che è importante tanto quanto la modestia. E ora torniamo nuovamente a quello che vi dicevo prima, ossia Apex Legends Mobile è stato creato appositamente per i touchscreen con comandi semplificati e ottimizzazioni mirate che rendono possibile il combattimento Battle Royale più avanzato anche su smartphone. È una nuova versione di Apex Legends ma resta comunque fedele all'originale. Già qua stiamo vedendo qualche screenshot in game, suppongo, soprattutto questo e i dettagli del mondo sembrano più bassi. Però se dovesse essere questo, madonna. Inizieremo in piccolo con poche migliaia di giocatori in India e nelle Filippine. Eh, poche migliaia, sottovalutate i VPN. Ma nell'arco di quest'anno abbiamo intenzione di rendere il gioco disponibile in più regioni per raggiungere molti altri giocatori in tutto il mondo. Se non sbaglio, in India e nelle Filippine dovrebbe già essere disponibile addirittura la beta o dovrebbe diventarlo a breve? E sì, la parentesi VPN l'ho buttata là, ma forse dovrebbe essere possibile provare la beta anche da qua nonostante qua non sia ancora disponibile. Fatemi sapere con un commento se volete che ci provi. Alcuni di voi potrebbero chiedersi che cosa significa questa novità per le versioni PC e console di Apex Legends. Eh, era proprio il dubbio che avevo. No, cioè, in verità no. Cioè, non ha senso. Cosa dovrebbe significare questa novità per le versioni PC e console? Niente, il crossplay non c'è, quindi non significa niente. E infatti hanno sfruttato questa cosa semplicemente per spammare ulteriormente il trailer di Valk della Season 9 di cui già abbiamo parlato. Questa novità per gli utenti PC e console non significa niente. Se non che se anche loro hanno un cellulare potranno anche loro giocare ad Apex Mobile. E ora Chad Grenier, game director di Apex Legends, passione youtuber. Con un QNA. Domande e risposte. E il prossimo passo è l'Aimai. Chad Grenier, non deluderci. Ma ora torniamo a fare i seri. Quando sarà disponibile Apex Legends Mobile nella mia regione? Ma aspetta, Chad, come fai a sapere qual è la mia regione? Sei un veggie end. Apex Legends Mobile verrà rilasciato gradualmente in tutto il mondo attraverso una serie di test. Le prime serie di test si svolgeranno in India e nelle Filippine. Inizieranno questa primavera e saranno dedicate, attenzione, solo ai dispositivi Android. Andando avanti raggiungeremo nuove regioni e suona molto, non lo so, da Alessandro Magno. E implementeremo anche il supporto iOS. Quando finalmente saremo pronti a espanderci creeremo una pagina che vi consentirà di pre-registrarvi per il gioco e iscrivervi alla newsletter delle versioni beta. Per il momento continuate a seguirci qui e sul nostro profilo Twitter. Tradotto, aspettate e non rompete le palle. Apex Legends Mobile sarà dotato di supporto crossplay. Dal momento che Apex Mobile è stato creato appositamente per dispositivi mobili, la funzione crossplay non sarà disponibile. Apex Legends Mobile sarà gratuito? Provate a indovinare. Esatto, sì, sarà gratuito. Cioè, abbastanza scontato. Non è che possono farlo a pagamento. Cioè, possono, però è gratuito su tutte le altre piattaforme, non avrebbe molto senso. Gli oggetti cosmetici acquistati saranno appunto solamente oggetti cosmetici, non daranno un vantaggio competitivo. E attenzione, la cosa forse più interessante, Apex Legends Mobile avrà inoltre un pass battaglia e degli oggetti cosmetici diversi da quelli delle versioni PC e console del gioco. E carino quindi, skin nuove, non vedo l'ora di rosicare perché la skin che mi piace è solo nella versione del gioco che io principalmente non gioco. Il team di Apex Legends sta lavorando anche su Apex Legends Mobile? Eh, no, guarda, lo stiamo facendo sviluppare ai nostri giardinieri. Incredibilmente sì! Cioè, dai, no, non era una cosa così scontata, nel senso che hanno un team diverso per lo sviluppo di Apex Mobile, però quel team sostanzialmente collabora anche col team principale che lavora alla versione principale del gioco. E per questo articolo e per questo fantastico Q&A è tutto! Quindi io vi ricordo nuovamente il mi piace, l'iscrizione al canale e direi di tuffarci nella pagina del Play Store. Eccoci qua e prima che me lo chiediate in 10 miliardi cercherò di ricordarmi di mettere anche questo link in descrizione. Se me lo dovessi dimenticare, spammatemi di commenti dicendomi nico il link, nico il link, nico il link. Allora, abbiamo una bella, bella, bella descrizione lunghissima, piena di informazioni, ma prima di tutto abbiamo degli screenshot del gioco, penso dovrebbero essere screenshot di game, quindi iniziamo col guardare questi. E ribadisco, mi sembra veramente assurdo, giusto i dettagli, per esempio la texture del prato qua, sono evidentemente meno elaborati rispetto a quelli delle versioni che già conosciamo, però, madonna, per essere su mobile, che poi è anche vero che sono screenshot, non vogliono dire tanto, cioè se questo screenshot è preso da un video che girava a 5 fps, abbiamo un secondo screenshot e una cosa che vi faccio subito notare è che qua abbiamo Octane, e perché ve lo faccio notare? Ve lo faccio notare perché come vedremo dopo, Octane, come volete mettere l'accento non mi interessa, non è tra le leggende disponibili a lancio su Apex Mobile, per il resto stesso discorso che ho fatto anche prima, dettagli, per esempio quello della strada, decisamente più bassi, però mi sembra un livello molto molto buono, ecco qua le leggende disponibili a lancio, che sono tutte quelle che avevamo anche di base al day one del gioco principale, tranne Mirage, Mirage se lo sono dimenticati, terzo screenshot, siamo sempre lì, anche se, attenzione, iniziamo a vedere un'altra delle novità che dopo leggeremo, ossia la visuale in terza persona, perché questo gioco, ve lo spoilerò di già, avrà la possibilità di scelta tra prima e terza persona, un po' come PUBG Mobile, e siamo tornati, direi, al primo screenshot, esattamente. Squadre multiplayer, sparatutto in prima persona e in terza persona, e qui è quello che vi dicevo, terza persona confermata dal lancio. Probabilmente ci sarà la possibilità di scelta, cioè all'interno della stessa partita i giocatori potranno decidere se giocare in prima o in terza persona. generalmente quando è così la terza persona è più conveniente, ecco. Però la possibilità della prima rimane. Leggende come Wraith, Blowdown, The Caustic, Gibraltar, Lifeline e Pathfinder ti aspettano, e le hanno nominate praticamente tutte tranne Bangalore di quelle disponibili, perché combatti contro altre 19 squadre in partite Battle Royale da 60 persone. Quindi la base del gioco è la stessa, 60 giocatori per lobby. Anche se il fatto che abbiano sottolineato contro altre 19 squadre mi fa pensare che forse le duo non saranno disponibili. E qua ripetono, scegli la tua leggenda e unisciti ad altri due giocatori. Quindi a questo punto direi di sì, penso che ci saranno solamente le trio. Il motivo? Boh, magari per non splittare la player base, hanno paura di non avere abbastanza giocatori, non lo so. Comunque qua si parla delle caratteristiche al lancio, eh ragazzi. Ovviamente questo gioco al pari di quello principale verrà aggiornato, quindi penso che piano piano avremo tutte le leggende. Si parte con queste sette, piano piano le avremo tutte. Come gestiranno le season? Non ne ho idea. Hanno parlato di pass battaglia, quindi ci saranno anche qua le stagioni. Non sappiamo se con lo stesso nome o se saranno delle stagioni diverse, magari ripartiranno dalla season 1. Secondo me questa seconda è l'ipotesi più probabile. Aspettiamo e scopriamo. Ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Se è stato così, mi piace il video, iscrizione al canale. Vi ricordo nuovamente che tra poco, tra molto poco, arriverà la stagione 9. Non su Apex Mobile, ma su Apex Legends. Quello vero per le console, per il PC, per la Switch, per qualsiasi cosa. Quindi iscrivetevi per non perdervi tutte le novità che usciranno nel canale. Io vi auguro una buona serata e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!